Prefetto Frattasi, Bruno. Sì, vicino a dove dobbiamo cominciare. Ma guarda, una cosa la possiamo dire, perché al di là dell'emozione con cui abbiamo raccontato e ascoltato tante testimonianze, al di là della commozione con cui molti di noi hanno traversato quelle sale con quelle foto, al di là dell'affetto con cui ho rivisto delle persone a cui voglio un sacco di bene, beh, insomma, il succo di tutto è, e tu ne sei testimone, che lo Stato c'è e fa le cose giuste al momento giusto. Eh sì, io intanto buongiorno a tutti e grazie di questo invito. Io ho già conosciuto questo luogo, perché sono stato, prima di questo incarico, direttore dell'Agenzia Beni Confiscati e conoscevo il dottor Scarpa e la sua bravura, mi era nota. Noi, quando ero all'Agenzia, dicevamo sempre, dicevo sempre, ricordavo sempre che il riutilizzo di un bene, il recupero di un bene confiscato, la criminalità, è una forma di riscatto del bene, no? Gli si restituisce dignità, una nuova vita. E quindi il filo rosso tra Agenzia Beni Confiscati, riscatto sociale e poi la figura di Diego è un filo rosso molto forte. Io, dicevo prima a Carlo Alvino che mi intervistava, sono un tifoso del Napoli da bambino, quindi la mia prima emozione risale al 17 ottobre del 65, giorno in cui ho visto per la prima volta a San Paolo il grande Napoli di Altafini e Sivori, mi riferisco ai ricordi di chi mi è a fianco, sono ricordi anche miei, portai bene perché il Napoli vinse 5 a 1 contro l'Atalanta e Altafini fece tre gol. Quindi un amore molto grande, molto forte come capita a tanti napoletani, un amore che poi si è rafforzato anche con la distanza fisica, perché appena 23 anni la vita mi ha portato a Roma, quindi ho vissuto tutta la mia vita fuori dalla mia città di origine e un grande legame, un forte legame è stato la passione per la squadra, il tifo per la mia squadra. I tifosi napoletani sono straordinari, perché riuscivano i tifosi della mia generazione ad appassionarsi a una squadra che arrancava anche, oppure che considerava un grande successo pareggiare a Milano o a Torino con la Juventus, ecco, questo era per noi la grande soddisfazione in quegli anni. Quindi la venuta di Diego nell'84 effettivamente è stata l'inveramento di un sogno, il più grande calciatore del mondo veniva a giocare a Napoli. Io l'orgoglio di tifoso del Napoli non ce l'ho per i due scudetti soltanto, ovvio, è chiaro che ce l'ho anche per questi, per la Supercoppa, per la Coppa UEFA, per i tanti traguardi che in pochissimo tempo, grazie a Diego ovviamente, e alla sua squadra, ai suoi compagni di squadra, siamo riusciti a conquistare. Ma anche per il fatto di poter dire il più grande giocatore del mondo mai esistito ha giocato nella mia squadra. Questo è una grande cosa di orgoglio che io sento di avere. Quando nell'84, confidato anche questo a Carlo, Diego si trattava, questa trattativa infinita, molti la ricorderanno, io compravo tutti i giorni il Corriere dello Sport per vedere a che punto era questa trattativa, che ce la raccontavano Franco Esposito e Antonio Corvo. Sono due tuoi colleghi che conoscerai bene, io sono un amico di entrambi, posso dire che li ho conosciuti in tempi diversi della mia vita. Io aspettavo anche il mio primo figlio, Alessio, e aspettavo questi due eventi come si aspettasse per la stessa cosa, insomma, trepidavo per mio figlio come trepidavo per la venuta di Diego. sembrerebbe quasi blasfemo dirlo, ma insomma no, io credo che mio figlio Alessio, che ha la mia stessa passione, non si offenderebbe. Sono certo di questo. Guarda, devo dirti, Diego non ha presentato il sogno per i napoletani, come dicevo, e secondo me c'erano tutti gli ingredienti perfetti per chi scattasse questa scintilla, questo amore grandissimo della città per lui, e di lui per la città. Intanto, diciamo, lui rappresentava l'uomo, l'ombre verticale, no? L'uomo che non si arrende di fronte alle difficoltà, che ha una grande dignità, che ha una grande consapevolezza di se stesso, ma ha anche una grande umiltà. Ecco, il migliore dei napoletani è fatto così. È una persona che ha una grande dignità, ma ha anche una grande consapevolezza della sua capacità, della sua maestria. Esistono in tutti i campi del sapere, dal mondo del diritto, dal mondo delle professioni, dal mondo accademico, grandi napoletani in tutto il mondo. Grandi napoletani. E da questo punto di vista Diego è stato un grande napoletano. Lo ha fatto, naturalmente, con la sua arte pedatoria, avrebbe detto Brera, no? Con la sua grandissima arte predatoria. Ma ha incarnato il sogno per i napoletani. E lui poi era anche un uomo schietto, leale, sincero. Io credo che, e qui c'è il grande capitano Bruscolotti, che ha fatto questo grande gesto di generosità, dando la sua fascia a Diego. Credo che nessun compagno, puoi testimoniarlo, nessun compagno si sia mai lamentato dell'atteggiamento di Diego nei suoi confronti. Noi ricordiamo tanti calciatori, grandissimi, anche bravissimi, talentuosi, che avevano questo atteggiamento un po' sprezzante nei confronti dei compagni meno dotati. Diego non credo che abbia mai avuto questo atteggiamento nei confronti di nessuno dei suoi compagni di squadra, in qualunque squadra gli abbia militato o di cui abbia fatto parte. Poi Diego ha parlato della complessità prima, qualcuno, mi pare ovvio, Diego era un uomo complesso, una persona assai complessa, e non poteva che essere così, per il tipo di vita che aveva avuto, straordinaria, meravigliosa, unica. Complesso, e io penso che un dato, un dato della sua vita sportiva colga questa complessità. La partita, l'hai ricordato forse anche tu, contro gli inglesi ai mondiali dell'86, dove nel giro di cinque minuti fa un gol con la mano, irregolare, ma straordinario, per la intuizione, la genialità di quel momento, è il gol più bello della storia dei mondiali che ci siano mai stati. Ma nel giro di cinque minuti, come se il secondo riscattasse un po' la furberia del primo, la compensasse, per far vedere io sono questo e quest'altro ancora. cioè lui in sostanza aveva questa grandissima capacità di incarnare più persone nello stesso momento, nella stessa partita. Ed era però un avversario sempre leale. Adesso il gol con l'Inghilterra può un po' offuscare questa cosa, ma io credo, qui c'è un calciatore che può confermarmelo, fosse sempre leale. Io non ho visto fare scene a Diego. Non ho mai visto fare scene a Diego. quando veniva pure marcato in maniera feroce, c'erano dei mastini come Beppe qui, che insomma menavano all'epoca. E lui non si sottraeva alle marcature, non si buttava a terra, faceva finta, oggi ci sono tanti cascatori. Lui era un uomo di grande lealtà, sportiva anche. E questa è una cosa che mi ha sempre conquistato, affascinato. Torno un attimo, scusate il disordine di questo intervento, ma le cose da dire sono tante, l'emozione è tanta e la voglia di parlare pure è tanta, quindi mi devi fermare a un certo punto. Dicevo, la più grande dimostrazione di questo riscatto secondo me che ha riguardato Napoli ma come è stato giustamente detto riguardava tutto il Meridione. Vedete, Napoli ha una grande originalità, è l'unica grande squadra d'Italia che è una sola, città d'Italia che è una sola squadra in Napoli. Non esiste altro. Ci hanno provato l'Inter-Napoli, Campania Sport, non c'è stato niente da fare. l'attaccamento al Napoli a una sola squadra è la cifra distintiva sportiva del calcio di questa città. La città vive per questa squadra e la squadra sente di riflettersi nella sua città. Questo però ti dice anche una cosa che Napoli è sempre stata un po' vista anche se non lo ammettono come un punto di riferimento un po' per il Meridione e ricordo a questo punto una cosa che mi commuove sempre quando la ricordo la vittoria di Stoccarda. Ferlaino ormai novantenne lo ricorda tra le lacrime questa cosa quando il pullman del Napoli dall'albergo allo stadio e poi dallo stadio all'aeroporto percorse le vie di Stoccarda tra ali di folla di gente di migliaia di gente napoletani meridionali che applaudivano piangevano salutavano sentivano che quella squadra che aveva vinto finalmente una competizione europea e ricordo una cosa posso dire una cattiveria il giorno dopo anzi in quella stessa serata su uno schermo apparve una scritta Napoli campione d'Europa fece incazzare scusate Breno in una maniera incredibile perché avrebbe giocato una settimana dopo il Milan contro la finale famosa che vinse contro lo Stau di Bucharest e vinse la prima coppa dei campioni Berlusconi quindi si sentivano un po' messi in discussione e anche questa è stata la grandezza di Diego mettere in discussione la grandezza di quei club il Milan la Juventus l'Inter che avevano spedroneggiato per carità con merito con merito sportivo per tanti anni ancora lo fanno e praticamente eravamo alla loro altezza alla loro altezza questo è stato una cosa che non può non conquistare il cuore dello sportivo il cuore del napoletano e poi diciamo l'identificazione con la città ecco un altro punto che mi sono segnato è stata totale totale il murales di Diego ce lo ricordiamo tutti il fatto che Diego diciamo sia ancora ricordato così vivamente nella città da tutta la città lo ricordano ancora come se fosse qui tra noi ancora a giocare perché la forza di quei ricordi è enorme è grande è grandissima quella dignità che lui ha restituito dal punto di vista del pallone perché non è che Napoli aveva bisogno con tutto il rispetto di Diego dell'avvenuta di Maradona perché si sentisse degna è stata sempre una città molto fiera molto come dicevo prima consapevole della sua grandezza e però se sempre ti prendono a calci o ti insultano probabilmente qualche dubbio te lo fai venire e quindi qualcuno che ti riscatta da questa situazione diciamo un po' di sudditanza insomma ti fa piacere che arrivi ti riconosci subito in lui ti identifichi subito in lui ecco è arrivato chi finalmente ci può portare dall'altra parte della riva è arrivato Diego e Diego ha cambiato il destino della società calcio Napoli il destino anche delle nostre diciamo fortune calcistiche abbiamo vinto tanto abbiamo vinto tantissimo in quei cinque anni una cosa che forse oggi sarebbe irripetibile perché abbiamo vinto due scudetti una coppa Italia una supercoppa una coppa UEFA siamo stati secondi terzi abbiamo fatto tanta roba come si dice oggi con questa espressione un po' usata ma insomma che dà l'idea di quello che è stato Diego quindi quel riconoscimento quell'identificazione della città con Diego vive ancora e ha ragione le dico quando ha ricordato dopo la morte di Diego la reazione della città quella andare in processione verso il San Paolo è stata un'altra cosa un altro momento straordinario Diego toccantissimo quel fatto che in maniera spontanea tutta una città tutta una città nonostante il lockdown nonostante le restrizioni del covid e il mio amico Marco Valentini molto intelligentemente prefetto di Napoli sorvolò sul rigoroso rispetto di quelle nove che capì il momento va interpretato il momento è compito anche dello Stato capire i momenti di una città interpretare i sentimenti di una città diciamo poi perché vide che ci fu anche molta compostezza in quella in quella reazione e quella reazione mi ha sempre ricordato mi ha sempre ricordato un po' quello che avvenne per un'altra grande squadra popolare il Torino dopo lo scudetto di Graziani e Pulici quando tutta la città andò in processione verso Superga come un moto spontaneo dell'anima una reazione immediata che interpretava il sentimento popolare non se lo dissero prima lo capirono subito in quel momento che era l'unica cosa da fare ecco i napoletani dopo la morte di Dico capirono che quella era l'unica cosa da fare andare tutti in processione verso lo stadio dove lui era stato l'eroe di tutti quanti i napoletani lui aveva incarnato in quel momento la città ecco vado a concludere questo intervento forse anche troppo lungo e mi scuso Diego mi è molto piaciuto quell'intervento che hai fatto e ti voglio fare i miei complimenti per le tue parole ecco molti ti chiamano Diego Junior per distinguerti da due padri io credo che da questo momento io toglierò Junior ti chiamo Diego e basta perché te lo meriti grazie 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 grazie